Per la prima volta un'imprenditrice romagnola della Ravennate viene eletta alla Vicepresidenza nazionale dei giovani di Confindustria. Un bellissimo risultato e per parlare di questo allora abbiamo con noi ospite la nostra nuova Vicepresidente, alla quale do il benvenuto, Licia Angeli. Raccontaci immediatamente, Licia, quali saranno i progetti che metterai in campo da oggi. Noi ovviamente siamo il gruppo giovani, quindi guardiamo il contemporaneo e oggi è l'innovazione e l'industria 4.0, il nuovo scoglio che le imprese devono affrontare. Quindi come imprenditori vogliamo investire sul rinnovamento e sulla formazione dei giovani imprenditori perché all'interno delle proprie imprese possono avere gli strumenti e le risorse per appunto innovare e essere tecnologici. Su più settori in particolare noi puntiamo sul discorso Made in Italy 4.0 che è un nuovo fronte di Made in Italy che ovviamente deve affrontare tutte le tematiche della tecnologia e del mondo social per essere al passo col mondo. Da imprenditrice chiedo anche un piccolo supporto alla politica in questo perché come gruppo giovani saremo la spina nel fianco della politica e quindi chiediamo di avere appunto queste risorse magari con un abbassamento del cuneo fiscale lieve per poter rinnovare all'interno delle nostre imprese utilizzando dei metodi non convenzionali come appunto dicevo prima i social e strumenti diciamo di marketing diversi dalla carta stappata.